Sono degli impegni precisi perché Bari non ha un'area attrezzata pubblica per i camperisti. Hanno bisogno di un'area attrezzata sicura, illuminata, dove ci siano i motorini in affitto per poter girare Bari. Guardate il turismo, a Bari è anche questo, non è solamente il turismo mordi e fuggi della nave da crociera. Ed è importante saper accogliere a Bari, città di San Nicola, i forestieri. San Nicola è amante dei forestieri e Bari deve imparare ad accogliere i forestieri. Siamo ancora lontani ma il nostro impegno è quello di migliorare. Quale potrebbe essere un'area adatta? A San Girolamo ne è stata individuata una, però purtroppo le aree in degrado di proprietà del comune di Bari sono tante. Questo risolverebbe il problema del degrado e permetterebbe a tanti cittadini europei, perché i camperisti si muovono, come ha spregato il presidente dell'associazione, dall'Europa per arrivare a Bari. Ci possono essere tante le aree adibite, quella di San Girolamo ad esempio è una. Bari con le sue peculiarità di città, con dei trascorsi che risalgono ai romani, con San Nicola, con la fiera del Levante e quale terminale delle autostrade internazionali per traghettare le persone, i turisti, i viaggiatori nei paesi orientali, Grecia, Turchia, Croazia, Montenegro, noi possiamo fare una valutazione soltanto su questi flussi di treno in transito e parliamo di un 5.000 camper che rappresentano 10.000 persone con una spesa media di 70 euro a camper con due persone, 10.000 persone rappresentano 700.000 euro che potrebbero restare sul territorio e per la mancanza di un'area di sosta praticamente non esiste. è considerevole, basti pensare.